Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, riaccoci qui. Anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Ieri abbiamo analizzato insieme le 10 partite di questa quindicesima giornata di campionato, oggi entriamo più nello specifico e andiamo a vedere squadra per squadra gli indici di schierabilità. Ovviamente oggi pomeriggio tornano le live sia qui sia sulla piattaforma Viola, domani ovviamente ci saranno altre live sempre dedicate ai vostri dubbi di formazione e a proposito di live permettetemi di ricordarvi che se vi volete prendere un paio di orette che non hanno a che fare col Fantacalcio andatevi a recuperare la live di ieri sera Lufufu sul film migliore di sempre. È stata una live molto lunga, quasi 4 ore, ma molto secondo me divertente e allo stesso tempo anche interessante. Ovviamente se non l'avete ancora fatto, like al video, iscrivetevi al canale che è sempre gratis e a proposito di cose gratis ricordatevi che anche registrarvi su Starks è gratis. Trovate il link in descrizione, Starks è la prima piattaforma in Italia dove abbiamo la possibilità di acquistare direttamente i token dei nostri calciatori preferiti e da 2-3 settimane finalmente è partito il gioco. Come vi ho fatto vedere nelle storie su Instagram, dopo solamente due giornate sono stati dati già dei premi, io ho fatto quarto nel mio torneo, ho già vinto 90.000 crediti che per chi non sapesse ancora bene cosa sono è il corrispettivo di 90 euro a tutti gli effetti, quindi la registrazione è gratuita. A fronte del primo deposito di almeno 20 euro, ve ne regalano anche 15 in omaggio. Io vi ripeto, è il momento adatto perché siamo all'inizio per entrare su Starks. È un ottimo timing di entrata, ci sono un sacco di benefit, quindi approfittate. Grazie mille, il link è qui sotto in descrizione. Ma adesso ci andiamo a spostare subito su Fanta Lab e partiamo con gli indici di schierabilità della prima partita, quella tra Juventus e Napoli. Ed eccoci qui, Juventus-Napoli. Allora, come ho detto ieri io vedo una Juventus leggermente favorita, una Juventus che secondo me ha in chiesa forse in questo caso la sua arma in più. Spesso chiesa nei big match va a impattare maggiormente di alcuni suoi compagni di squadra, quindi io dico chiesa 7, Vlaovic 7 come indici di schierabilità. Starei molto più basso sui centrocampisti della Juve, tolto ovviamente Rabiot, di cui abbiamo già parlato, e ovviamente la difesa. La difesa della Juventus è fin qui stata una delle migliori. Insieme a quella dell'Inter sono, secondo me, nomi tutti altamente schierabili. Vedremo se giocherà Danilo o meno dall'inizio. Assolutamente anche lui si può schierare. Andrei ad abbassare leggermente Cambiasso e anche McKennie, però tutto sommato mi trovo concorde con gli indici di schierabilità della Juventus che dà il nostro algoritmo. Sul Napoli resto un po' più basso per quanto riguarda la difesa. Rachmanie e Nathan sono d'accordo nel lasciarli così. Ostigard stesso io non andrei oltre il 5.8 che viene assegnato anche a Rachmanie e Nathan. Zambo schierabile, ovviamente. Di Lorenzo un 7 se lo merita sempre. Lobotka 6, Zielinski 6.5, Politano 7, Ossimen 7, Kvara 7. Se dovessi consigliare un nome nello specifico di Kvara, perché secondo me è il nome che può mettere più in difficoltà la retroguardia della Juventus, per quanto riguarda gli sconsigliati, ripeto, metto Nathan a simboleggiare un po' in questo momento la fragilità difensiva dei partenopei, dovessi puntare su una scommessa non è assolutamente facile, però Danilo, anche se non è propriamente una scommessa, potrebbe essere il nome che non ti aspetti. Che pronostico diamo? Io dico Juve di Cortomuso. 1-0. Andiamo a Verona Lazio. Allora, qui non sono d'accordo con questo plebiscito verde nei confronti dei giocatori laziali. Una Lazio che si ha vinto in Coppa Italia, ma che ha diverse assenze, qualche problemino qua e là, nei vari reparti. Un Verona che non molla mai, quindi sicuramente consigliato un Gongi, è il nome che vedo meglio in questo momento in casa Verona. Non mi dispiacciono neanche Lazovic e Diuric, a cui però non do più di un 6, così come Foloruncio. Duda ci può stare il 6.1, Ciacciua sono d'accordo nel 5.7, Terracciano merita un 6, da evitare Amione e Coppola sono d'accordo qui e su Montipò resto sul 6, non tanto per i suoi demeriti quanto per i demeriti della difesa che gli sta davanti. La Lazio sicuramente è favorita e se dovessi fare un pronostico, probabilmente qui o vado sul segno X o vado sul segno 2, potrebbe uscire fuori una partita con gol, secondo me. Perché no? Magari un 1-1, un 2-2, proviamo un 2-2, anche se la Lazio la vedo leggermente favorita. Comunque Pedro Schierabile, immobile ovviamente consigliato, Felipe Anderson in questo momento più di un 6.5 per me non merita, così come Camada più di un 6 non glielo do, Rovella idem, Guendosi ha fatto bene in Coppa, qualcosina in più, io sulla difesa resto abbastanza basso, Lazzari qualcosina in più, se lo amerita anche lui, potrebbe essere una buona scommessa, però io al momento nella Lazio troppi indici di schierabilità verdi, non mi sento onestamente di darglieli. Luis Alberto, vedremo se giocherò o meno dall'inizio, comunque un 7, Zaccani dovesse giocare 6.5, ecco, però non andrei oltre questi indici, a me la Lazio fin qui ha dato poca fiducia e non mi sento ancora di puntare ad occhi chiusi sulla squadra di Sarri in campionato. Andiamo avanti, Atalanta-Milan, questa è una gara secondo me molto equilibrata, non mi stupirei anche qua se uscisse fuori un pareggio, magari un 1-1, perché no, anche se il Milan forse in alcune cose potrebbe essere considerato leggermente favorito, Musso 6, non di più, Scalvini per me è sconsigliato, fin qui male, e fin qui troppo sopravvalutato da tanti, Colasinac 6, Atebor 6, Ruggeri 6.3, perché tra gli esterni resta comunque il nome più interessante, secondo me in casa Atalanta, De Ketelare è la scommessa di giornata da ex in casa, Atalanta, Pasalic e De Rune resterai su un 6, Ederson 6.5, fin qui comunque il centrocampista, che insieme a Copp Miners ha fatto meglio, Copp e Lukman 7, sono i due sicuramente nomi un po' più consigliati. Per quanto riguarda il Milan, starei un po' più basso rispetto a questi indici, quindi Magnan leggermente meglio di Musso, Calabria a Tomori 6.5, comunque sta diventando una garanzia da modificatore, Teo si schiera, ma occhio perché l'insufficienza con Teo può essere sempre dietro all'angolo, starei basso sia su Florenzi sia su Musà, non altissimo su Reinders, Ciucuese un 6.5, glielo do perché comunque qualche segnale lo ha dato, così come Loftus Cic, Pulisic 7, Giroud 7, sono ovviamente i due nomi che andrei a schierare in tutte le rose al Fanta Calcio. Milan leggermente favorito, ripeto però, un pareggio ci può stare tutto, anche perché l'Atalanta da quattro gare non vince, e potrebbe anche provare il colpaccio, questa è una gara da 1x2. Sono invece d'accordo qui sul plebiscito Inter, magari non così alti i voti dell'indice di schierabilità, però a tutto sommato mi aspetto un Inter che vince, un 2-0, non mi stupirei se arrivasse un altro clean sheet per Sommer, che resta ovviamente altamente consigliato e altamente schierabile, Bastoni dovrebbe tornare titolare, 6.5 così come Darmian, ci sta, Acerbi fin qui molto bene anche lui, 6.5 di Marco, 7 quadrado, può essere il nome che non ti aspetti, e quindi lo vado a suggerire nelle scommesse di Marco consigliato, Barella io tornerei a un 6.5, non mi faccio influenzare troppo dall'ultima gara, Cialanolu è una garanzia, 7, Mkhitaryan 6.5, e poi ovviamente lì davanti c'è poco da dire, Duram 7.5, Lautaro 8, i due nomi lì davanti sono i due nomi su cui puntare maggiormente in questo momento. Nell'Inter sono tanti consigliati, ma ragazzi, se sono premi in classifica sicuramente non è un caso. Nell'Udinese sconsiglio Silvestri, perché a San Siro quasi tutti i protieri tenderei a sconsigliarli, eviterei in generale la difesa, la difesa di Cioffi in questa gara tenderei ad evitarla, si possono forse giusto provare a mettere i due esterni, se proprio non abbiamo alternative. Samarzic è il nome interessante secondo me qui, perché insomma sicuramente sarà molto fischiato a San Siro, però potrebbe essere il nome che va a fare lo scherzetto. Wallace 6, Pajero 6, Pereira qualcosina in più 6.5, Luca 6, non di più sconsigliati, ripeto, uno, Silvestri e Ferreira forse sono i due nomi, così, per simboleggiare il tipo di partita che potrebbe andare a incontrare l'Udinese in questo caso. Carlos Augusto anche dalla panchina si schiera sempre con copertura, così come Frattesi sono i due giocatori giolli di Inzaghi. Occhio anche ad Arnautovic potrebbe essere una bella scommessa. Nell'Udinese è tolto Tovenne, è tolto Lovric qualora dovesse giocare, ma gli altri nomi non sono nomi che in questo momento possono incidere in qualche modo. Passiamo poi a Frosinone Torino, arbitrata da Massimi, io qua vi ricordo sempre che andando sull'arbitro, Fantalab vi segnala quanti gialli vengono dati a partita in media da questo arbitro, quanti rigori a partita vengono dati, eccetera, eccetera. Quindi per chi ama anche questo tipo di statistiche, trovate tutto su Fantalab. Io vedo il Frosinone leggermente favorito, nonostante la bella vittoria del Torino sull'Atalanta, secondo me può fare una buona gara il Frosinone. Ocoli non mi ispira fiducia, l'ho sempre detto, Romagnoli qualcosina in più sì, anche io io non ho fin qui abbastanza male, Gelli non mi fa impazzire, a Ibra un 6,5 lo merita, Regnier non dovrebbe farcela, infortunato, quindi io andrei a dare a Brescianini un 6,2, fresco di gol a San Siro, Burabian non è propriamente un giocatore da fantacalcio, più di un 5,5 non glielo do, Sule ovviamente si schiera, consigliato, e la scommessa di giornata in casa Frosinone, si chiama, che dira, che potrebbe essere preferito a Cuni. Per quanto riguarda invece il Torino, Milinkovic-Savic, prima di dargli più di un 6, voglio avere almeno due partite consecutive positive, buongiorno, vabbè, magari 9 no, ma sicuramente in ottica modificatore un 7, se lo merita tutto, Rodriguez 6,2, Bellanova ha fatto benino l'ultima, 6,2, Suweivoda 6, Tamez 6, Ilic 6, non sono giocatori su cui punterai in ottica bonus, Blasic 7, perché comunque ha fatto molto bene l'ultima, è giusto dargli fiducia, Ricci 6, Zapata 7, Sanabria 6,5. Frosinone per me leggermente favorito, magari 21 a 1 no, ma un 2 a 1 perché no, ecco, alzerei leggermente forse Romagnoli, però molto dipenderà da Sule ovviamente, però Frosinone lo vedo leggermente favorito. Arriviamo poi a Monza Genoa, anche qua vedo il Monza, ripeto, leggermente favorito, eccoci qua, Retteghi, comunque si può mettere, ha dato qualche segnale importante anche in Coppa Italia, Gudmundsson non dovrebbe farcela, almeno non dall'inizio, se lo avete si può schierare con copertura, per quanto riguarda invece gli altri giocatori del Genoa, ma poi facciamo quelli del Monza, io a Martinez più di un 5.9 non mi sento di dare, perché in trasferta mi dà molte meno garanzie che in casa, stesso discorso ovviamente per la difesa rosso-blu, starei abbastanza basso qui, sia sui centrali sia sugli esterni, Torsby lo lascerai in rosso, Frendrup è uno che il suo voto se lo porta sempre a casa, Badeli più di un 6 non glielo do, starei così, starei così. Ovviamente nel Monza consigliato di Gregorio, soprattutto in ottica modificatore, su D'Ambrosio starei un po' più basso, così come su Mari, così come su Caldirola, Chiriacopulos qualcosina in più, Gagliardini spesso col Genoa ha segnato, diamo un 6.5, Colpani ovviamente 7.5, se non sbaglio tutti i gol fin qui l'ha fatto in casa, quindi giusto dargli anche fiducia contro il Genoa, Pessina riorista si può schierare, Ciurria più di un 6 non mi sento di dargli, la Colombo consigliato, si può mettere magari in un 7 ma un 6.9, assolutamente sì, sconsigliato, probabilmente vi metto Torsby, perché potrebbe rischiare magari anche un giallo, tra le scommesse di giornata, vediamo un po' qualcosa dalla panchina, Birindelli non male, Carboni non male, Gudmundson definire lo scommesse è un po' riduttivo, quindi eviterei, un Pessina rigorista potrebbe essere considerato, ci può stare come scommessa di giornata. Arriviamo poi a Salernitana-Bologna, questa è una gara tutt'altro che scontata, vedo il Bologna leggermente favorito, ma potrebbe anche finire in parità, io qua metto un 2-1, ma potrebbe anche starci un pareggio, non credo in una vittoria della Salernitana, ma sono pronto per essere smentito, la difesa della Salernitana la sconsiglio comunque sempre in blocco, Mazzocchi 6, ci sta, Bradri ce lo alza un pochino, ok, Koulibaly-Boinen al momento li lascio assolutamente in rosso, Candreva un 6,5 se lo merita tutto, resta uno dei più consigliati tra i suoi, di A7, assolutamente, Kastanos potrebbe essere il nome un po' più underdog, diciamo tra quelli delle file di Nzaghi, nel Bologna Skrubski schierabile, ma non consigliato come quando gioca in casa, Posh un 6,5 potrebbe essere la scommessa in casa Bologna, su Berkman non sappiamo ancora se giocherà o meno, io più di un 6 non glielo do, Calafiori qualcosina in più, perché sta facendo molto bene, stesso discorso Lukumi resterebbe sul 6, così come Eibisha, Ndoye qualcosina in più, Ferguson ovviamente nome garanzia, così come Zirkze, Fabian non è scommessa, lo mettiamo con un 6,8, e Salemekers lo lascerei sul 6,2. Bologna leggermente favorito, dalla panchina non vedo grandissimi nomi, Christian Sen si può schierare, così come Lico Giannis, nella Salernitana, tolto forse Jovane Cabral, c'è davvero poco. Arriviamo poi a Roma, Fiorentina, questa per me è una gara molto equilibrata, la Roma fin qui contro le squadre importanti, ha fatto fatica, non mi stupirei se uscisse fuori un pareggio, un 1-1, ecco. Ovviamente consigliate lì davanti, Dibala Lukaku, Cristante è insieme a Spinazzola, forse è l'altro nome che può fare bene, Rui Patricio schierabile, sì, Mancini schierabile, sì, la difesa della Roma è schierabile, ma non consigliata, Spinazzola qualcosina in più, così come Christensen, diamo fiducia agli esterni, 6,5 per Cristante, Paredes resto sul 6, Pellegrini 6,5 non di più in questo momento, Dibala 7, Lukaku mi sento di dargli qualcosina in più, potrebbe sfruttare Milenkovic, che è il vero nome, sconsigliato in questo momento nella retroguardia della Fiorentina. Nella Fiorentina in Coppa Italia, ieri ha giocato davanti Inzola, mi aspetto quindi un bel tram titolare, Ranieri si può dare un 6, Biraghi anche un 6,2, Melo lo lascio sul 6,3, Artur Melo, Duncan 6,3 anche lui, sta facendo bene, Buonaventura ovviamente 7, Sottil può essere il nome scommessa, sta iniziando a ingranare finalmente, Nico Gonzalez 7, Beltran un 6,2, non è la partita migliore per confermarsi, ecco, andrei così. Ovviamente poi dalla panchina, occhio più che altro a Bove, un 6,2 se lo merita, occhio anche a Aisha Raui, spesso da subentrante può fare bene, e occhio a Belotti. Nella Fiorentina, non mi convince nessun nome, Martinez Quarta 6, ma lascerai stare, per quanto riguarda la panchina. Empoli Lecce, Empoli Lecce, partita molto equilibrata, il Lecce arriva da tre pareggi consecutivi, l'Empoli arriva da un altro pareggio, e qui anche se uscisse fuori un altro pareggio, anche qua non sarei stupito. Nell'Empoli, Ciccio Caputo consigliato, si merita un 7, Cambiaghi, scommessa di giornata, Cancellieri 6,5, Mali lo lascio così, Ranocchia lo lascio così, Fazzini 6, Cacace, Luperto, io qua, Luperto in casa fa leggermente meglio, quindi ci può stare il 6,1, Beresinski 6, Smiley 5,9, Berisha 6, non di più. Falcone 6,5, più che altro per le prestazioni, Abbaschirotto un 6 glielo do, gli altri li lascio in rosso, Oden, nome secondo me che si può schierare, magari non come consigliato, ma come scommessa sì, da una parte Cendri e dall'altra Cacace, li metto sconsigliati, e davanti Gonzale 6, Strefezza 6,5, Christovic, Bandà, allora, diciamo che Christovic e Bandà, piccoli, bisognerà capire chi gioca, però sono entrambi schierabili, bisognerà, ecco, se avete lo switch forse, eh, ma neanche, perché spesso poi fa gol quello che subentra, quindi in questo caso onestamente, è difficile da gestire come coppia, però io più di un 6,2 non darei né a uno, né all'altro. Andiamo a chiudere con Cagliari-Sassuolo, questa potrebbe veramente essere una bella partita da gol, per me il Sassuolo senza Berardi e Boloca perde tanto, Cagliari 2 a 1, consigliato Luvumbo, a cui do 7, occhio anche a Viola, potrebbe essere il nome scommessa in casa Cagliari, e quindi lo andiamo a mettere tra le scommesse, scuffe 6, consigli 6, Golda Nigga mi dà poca fiducia, ma lo alzo leggermente, Dossena si può schierare, secondo me in questo caso, o anche lui potrebbe essere un nome scommessa, Augello 6, Hazzidiakos lo lascio in rosso, Nandez lo, lo metto sul 6, così come Prati, Sulemana 6, e Pettani a 6, ci può stare, anche lui potrebbe diventare interessante, Oristanio 6,5, anche se parte dalla panchina, Zappa 6, Janto 6, e Hazzidiakos, e Hazzidiakos 6, nel Sassuolo invece, Toljan 6,5, lo merita, perché comunque fin qui ha fatto bene, Erlich 5,9, 3 soldi, ovviamente ragazzi, 3, cosa vogliamo dargli a 3 soldi, 5,9 per Vigna, Matteo Seneriche bene, nelle ultime 6,5, Toshvet soprattutto se schierato trequartista, 6,5, Rachid 6, Castiglieo 6, Lauriente 6,2, non di più in questo caso, e Pinamonti 6,5, sconsigliato, vabbè, al di là di 3 soldi che fa uno sport a parte, e dobbiamo ancora capire quale sport fa, da una parte sconsiglio a Zilliakos, e dall'altra a Vigna, ma anche a Erlich, vedo il Cagliari favorito, dalla panca tolto dai rami, che si può schierare, non vedo grossi nomi che possono incidere. Ragazzi, questi erano i miei indici di schierabilità, per questa quindicesima giornata di campionato, ovviamente, lo ripeto ancora una volta, gli indici di schierabilità vogliono solamente essere un'indicazione, per le vostre formazioni, poi bisogna valutare da caso a caso, da situazione a situazione, e a questo proposito, ovviamente, faccio le live, oggi ci saranno 4 live, 3 sulla piattaforma Viola, una sul mio canale, una con i ragazzi di Fanta TV Play, e una con i ragazzi di fantacalcio.it, e poi a seguire la live su YouTube, domani altre due live, sia su Twitch, sul mio canale Il Profeta Twitch, e una sul mio canale YouTube. vi ricordo che per accedere ai contenuti riservati, la prossima estate, fasce, file e tanto altro, per quanto riguarda gli abbonati di piattaforma Viola, serve essere abbonati fin da questo mese, quindi non dimenticatevi il rinnovo gratis, se vi abbonate solamente a marzo, maggio, giugno, avrete sì dei vantaggi, come le live e altre cose, ma non avrete l'accesso alle fasce, lo ripeto ancora una volta, e invece, per quanto riguarda tutto il resto, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo, al prossimo video o alla prossima live, domani ovviamente usciranno le top 11, qui su YouTube, top 11 underdog, top 11 scommesse, su Stadeo come sempre, in esclusiva, gratuitamente per tutti voi, top 11 certezze, grazie mille, ciao a tutti, e alla prossima, ciao! ciao!